E' appena finita, appena finita Radio Londra, Radio Londra il nuovo programma di Giuliano Ferrara che possiamo dire una puntata propedeutica questa prima, una puntata che serve a mettere le basi di un discorso, evidentemente una puntata in cui Giuliano Ferrara ha voluto parlare di Giappone e è stato lontanissimo da tutti i temi dell'attualità e che quindi domani forse attiverà meno polemiche di quello che ci si poteva aspettare. Un Giuliano Ferrara comunque trattenuto, non so se siete d'accordo con me, un Giuliano Ferrara molto preoccupato di impostare un discorso più che svilupparlo. I tempi della trasmissione sono molto contratti, appena 4 minuti, in 4 minuti si può dire poco, forse non è la pezzatura giusta per lo sviluppo del talento di Ferrara. Certamente tutti coloro che erano preoccupati per un intervento a gamba tesa sui temi dell'attualità italiana, riforma della giustizia, processi di Berlusconi, rapporto con l'opposizione, sicuramente tutti questi temi sono stati tenuti a margine, dunque coloro che erano preoccupati di un attivismo eccessivo di Ferrara, almeno per oggi, e forse c'è da dirlo, solo per oggi possono stare tranquilli. Sono stati impostati alcuni temi, il passaggio sul nucleare evidentemente era più problematico forse di quello che ci si poteva aspettare da una persona come Ferrara, i temi della natura, del rapporto con la natura, temi che sono stati sviluppati molto da Giuliano Ferrara sul foglio, in particolare l'accenno alla tecnologia per le nascite. Comunque una puntata molto interlocutoria, bisognerà guardare, perché indubbiamente è un programma da guardare, qui Radio Londra, bisognerà guardarlo con attenzione perché qui viene basato un racconto, una forma di narrazione con un'ottica evidentemente di centrodestra Berlusconiano, ma che ha una sua dignità. È fastidioso aver notato tutta l'ondata di contestazioni alla sola presenza di Giuliano Ferrara, noi siamo invece contenti che una voce in più ci sia in Rai, come vogliamo difendere le voci di Santoro, di Floris, della Dandini, di Fazio, di tutti coloro che magari in queste settimane, in questi mesi andranno a rischio di contratto, così vogliamo difendere la libertà di Ferrara e di chi la pensa come Ferrara, di avere una trasmissione che comunque abbia un punto di vista intellettualmente comunque non ignobile. Da qui Piazza Grazioli, di nuovo a voi studio, come si dice.